Ci eravamo dunque lasciati nello scorso file audio con i figli di Israele che partono dall'Egitto in 600.000 uomini senza contare i bambini e che si diressero verso il deserto dopo essere rimasti in Egitto gli israeliti per circa 430 anni. Quindi inizieremo a parlare oggi del viaggio del popolo nel deserto, dello sterminio degli egiziani ma soprattutto delle lamentazioni, delle mormorazioni continue del popolo contro Mosè e in ultima istanza contro il Signore. Tanto che ad un certo punto più volte il popolo arriverà a dire meglio la schiavitù in Egitto dove almeno avevamo da mangiare che la fatica qui nel deserto. E non importa i miracoli compiuti dal Signore che avevano di fronte per mano di Mosè, Mosè era solo uno strumento ovviamente nelle mani del Signore, non importa questi continui miracoli, il popolo si lamenta continuamente e arriva a rimpiangere la schiavitù nella terra d'Egitto. Inizia quindi il viaggio, l'uscita dall'Egitto, l'esodo vero e proprio. Durante il viaggio il Signore diede a Mosè e ad Aronne istruzioni precise sulla Pasqua e sull'offerta dei primogeniti, primogeniti da consacrare a Dio e da riscattare a prezzo. Anche i primogeniti del bestiame si sarebbero dovuti consacrare al Signore. Quando il popolo partì dall'Egitto, Dio non lo fece dirigere verso la terra di Canaan, passando per la terra dei Filistei, che sarebbe stata la via più breve. Perché presi dallo sconforto, sapeva il Signore, gli ebrei avrebbero potuto desiderare tornare in Egitto voltandosi indietro. Essi furono pertanto condotti lungo la via del deserto, verso il Mar Rosso. Mosè portò via dall'Egitto anche le ossa di Giuseppe, come da antica richiesta che aveva avanzato ben prima di morire Giuseppe stesso, e che il popolo conosceva. Il popolo poteva contare su guide particolarissime, sia di giorno che di notte. Esodo 13, 21-22 Il Signore li precedeva, segnando la strada, di giorno con una colonna di nubi, di notte con una colonna di fuoco, per essere loro di guida nel viaggio in ambedue i tempi. Né mancò mai innanzi al popolo la colonna di nubi il giorno, né quella di fuoco la notte. Quindi una guida continua, di giorno e di notte. Si servì di prodigi, di fenomeni astronomici che a noi sono sconosciuti, ma che in quel momento miracolosamente accompagnavano il popolo sia di giorno che di notte. A un certo punto, il Signore comandò a Mosè che il popolo si accampasse al cospetto del mare, dinanzi a Fiairot, tra Magdalum e Belsefon. Annunciò inoltre a Mosè che il faraone, credendo gli israeliti ormai in trappola dinanzi al mare, li avrebbe inseguiti. Uno dice, ma come? Il faraone aveva lasciato uscire a malincuore, ma li aveva mandati via gli israeliti dall'Egitto, purché terminassero le piaghe, poi la più tremenda di tutte, con l'uccisione di tutti i primogeniti degli egiziani. Ebbene, il Signore annunciò a Mosè che, credendo il faraone che il popolo dinanzi al mare sarebbe stato in trappola, avrebbe fatto indurire nuovamente il cuore del faraone e dei suoi ministri, che di fatto si pentirono amaramente di aver lasciato uscire il popolo dall'Egitto e decisero di inseguirlo. Il sovrano fece preparare il suo carro e prese con sé tutte le schiere. Le scritture parlano di 600 carri e di tutti i capi dell'esercito presenti all'inseguimento. Vedendo arrivare gli egiziani da lontano, gli israeliti ebbero paura e si lamentarono. 14, 11, 12 Mancavano forse sepolcri in Egitto che ci hai condotti a morire qui nel deserto? Che hai voluto fare conducendoci via dall'Egitto? Non è proprio questo che ti dicevamo in Egitto? Egitto, Egitto, Egitto. Lasciaci stare che seguiteremo a servire gli egiziani? Certo, era molto meglio servire loro che morire nel deserto. Quindi la mentalità è ancora quello dello schiavo e non di colui che è disposto a faticare per seguire la volontà del Signore. Questo atteggiamento si ripeterà numerose volte. Ovviamente Mosè rimproverò il popolo ricordando la potenza del Signore e ordinando di tacere a tutti coloro che si stavano lamentando in maniera anche fastidiosa. Così, dietro agli ebrei che avanzavano, furono posti due elementi a guardia per separarli dagli egiziani. L'angelo di Dio che precedeva le schiere di Israele si mosse e si mise dietro a loro. Insieme con lui la colonna di nubi lasciò del pari la prima linea e si mese in fondo, tra le schiere degli egiziani e quelle di Israele. Il Signore ordinò a Mosè di stendere la sua verga sulle acque del mare e avvenne il potente miracolo della divisione delle acque del Mar Rosso, 14, 21, 22. Avendo Mosè stesa la mano verso il mare, il Signore lo asciugò, facendo soffiare per tutta la notte un vento forte e caldissimo e lo ridusse all'asciutto. Le acque poi si erano divise e i figli di Israele entrarono in mezzo all'asciutto mare, formando l'acqua come un muro a destra e uno a sinistra di loro. Appena però ne ebbero l'occasione, gli egiziani si gettarono all'inseguimento degli ebrei con tutta la cavalleria, i carri e i cavalieri del Faraone. Alla veglia del mattino, perché comunque per attraversare il Mar Rosso con le acque divise serviva molto tempo, Alla veglia ormai del mattino, il Signore ordinò la colonna di nube e di fuoco di ostacolare l'avanzata egistiana e i carri degli egiziani rimasero incagliati sul fondo. Questi egiziani cominciano a tremarsi, a tremare, a farsela sotto dalla paura, perché comprendono che quello che sta avvenendo avviene per mano di Dio, non degli ebrei che stanno fuggendo, per mano di Dio. Gli egiziani quindi, che sono in mezzo ai due muri d'acqua giganteschi, comprendono che sarebbe stato meglio ritirarsi immediatamente, ma era troppo tardi, impossibile muoversi, impossibile disincagliare i carri, impossibile soprattutto avere la rapidità per uscire dal terreno asciutto fra le due colonne d'acqua, troppo tardi. Su comando di Dio, infatti, Mosè stese nuovamente la mano sul mare e le acque travolsero gli egiziani, tanto che, dicono le scritture, neppure uno se ne salvò. Vedendo poi pian piano sulla spiaggia del mare i cadaveri degli egiziani, ecco che il popolo teme il Signore e credette al Signore. Seguì un cantico di ringraziamento al Signore da parte di Mosè, del quale ecco alcuni passi. Il Signore è come un guerriero, il suo nome è l'Onnipotente. Chi tra i forti è simile a te, oh Signore? Chi è simile a te, magnifico in santità, terribile, degno di lodi, operatore di prodigi? Il cantico fu accompagnato dal timpano di Maria, che era una profetessa e sorella di Aronne, e tutte le donne seguirono Maria con altri timpani in coro. Ma i giorni passano, e pian piano con il passare dei giorni si affievolisce anche il ricordo del miracolo del mare. Il popolo infatti si dimenticò ben presto del miracolo del mare, e avendo sete e non trovando acque potabili, ricordiamo che il popolo intanto sta procedendo, sta avanzando nel deserto nuovamente, cominciò a lamentarsi con Mosè. Giunti a Elim, però, gli israeliti trovarono 12 fonti di acqua e 70 palme, e poterono accamparvisi. Partiti poi da Elim in direzione di Sin, situato fra Elim e il Sinai, il giorno 15 del secondo mese dal quale erano usciti dall'Egitto, iniziarono grandissime mormorazioni contro Aronne e Mosè. 16.3 Meglio per noi se fossimo morti per mano del Signore in Egitto, quando sedevamo presso le marmitte, cioè i pentoloni, le marmitte piene di carni, e mangiavamo pane a sazietà. Insomma, perché ci avete condotti in questo deserto per far morire di fame tutta la gente? Quindi Mosè e Aronne stanno conducendo il popolo nell'eserto per farli morire di fame, secondo queste mormorazioni. Il Signore annunciò a Mosè che avrebbe fatto scendere pane dal cielo, e poi diciamo che il Signore non è paziente. Aronne e Mosè informarono il popolo che presto vi sarebbe stato da mangiare, ma ricordarono altresì agli israeliti che le loro lamentele erano da considerarsi non come lamentele contro loro due, cioè Mosè e Aronne che erano dei semplici emissari, ma erano lamentele in ultima istanza contro Dio. Mentre Aronne parlava all'assemblea di Israele, ecco, dicono le scritture, la gloria del Signore apparve nella nube, e la sera arrivarono tante quaglie da coprire il campo intero, mentre al mattino uno strato di rugiada era tutto attorno all'accampamento e ricopriva il suolo. Questo strato di rugiada era la manna. Esodo 16, 13, 15 Musè però spiegò anche al popolo le regole di uso, di raccolta della manna. Il Signore, infatti, voleva che al mattino ognuno prendesse una razione solo per il giorno in corso, mai per l'indomani. Chi raccolse doppia razione vide infatti la parte eccedente tramutarsi in vermi. Solo il sesto giorno il popolo avrebbe potuto raccogliere doppia razione, cioè due gomor, dove un gomor equivaleva a circa tre litri e mezzo, al fine di evitare il lavoro nel giorno di sabato. Il giorno di sabato, infatti, consacrato al Signore a riposo per volgere l'anima completamente a Dio, era vietata qualsiasi attività lavorativa e il popolo avrebbe dovuto usare la parte in avanzo della doppia razione raccolta il sesto giorno, che in questo caso, su, diciamo, concessione particolare, non sarebbe stata corrosa dai vermi. Alcuni, tuttavia, vogliono uscire a raccogliere manna anche nel giorno di sabato, ma non ne trovarono. E Mosè, saputelo, si infuriò a morte con loro. A morte, tra virgolette, perché per il momento questa furia, questa rabbia, terminò in un semplice ammonimento verbale, ma non ci furono vittime. Però, come vedremo, non sarà sempre così nei confronti di chi nel deserto viola il giorno del riposo. Quanto al sapore della manna, queste le parole della scrittura, 16, 31. Era come seme di corriandolo, bianco, di sapore come di fior di farina con miele. A Mosè Dio diede comando di conservare per sempre in un vaso un gomor di manna a ricordo della permanenza del popolo nel deserto, a ricordo per le future generazioni. Per 40 anni figli di Israele, infatti, si sarebbero nutriti di manna. Il popolo partì dal deserto di Sin e si incamminò verso Rafidim, ove prese accampamento. Nonostante tutti i portenti, tutti i miracoli, gli israeliti tornarono presto a lamentarsi fastidiosamente, di nuovo, stavolta perché mancava acqua nella nuova zona dove erano giunti. 17, 3, 4. Perché ci hai fatti uscire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e gli animali? Mosè, a questo punto quasi disperato, si raccomandò al Signore dicendo che debbo fare con questo popolo un poco più e mi lapiderà. Mosè dunque temeva che il popolo lo avrebbe lapidato. Il Signore, infinitamente paziente, gli ordinò allora di prendere con sé degli anziani di Israele e di incamminarsi verso la roccia dell'Oreb, di questo monte. Battendovi sopra con la verga ne uscì acqua potabile. Questo luogo fu chiamato emblematicamente Tentazione, a ricordo della contesa degli israeliti, che in quel posto avevano dubitato se il Signore fosse con loro o meno. A questo punto avviene la prima grande battaglia nel deserto. Gli israeliti sono accampati a Raffidim e gli amaleciti, il popolo degli amaleciti, decise di attaccare gli israeliti. Mosè quindi comandò a Giosuè, che troviamo qui citato per la prima volta nelle scritture, di scegliere alcuni uomini per contrastare i nemici. Mosè, molto in là con gli anni, avrebbe seguito il corso della battaglia dall'alto, su un colle, con in mano la verga di Dio. Assieme a lui salirono Aronne e Hur. Ecco che lo scontro ebbe inizio e le sorti della guerra dipendevano da come Mosè teneva le braccia. Esodo 17, 11, 13 Finché Mosè teneva le mani alzate vinceva Israele, ma se li abbassava un po' che vinceva Amalek. Le mani infatti di Mosè si stancavano. Perciò, presa una pietra, gliela misero sotto, ed egli vi sede sopra. Aronne e Dur, da una parte e dall'altra, gli sorreggevano le mani. Così non gli si stancarono le mani fino al tramonto del sole. E Giosuè mise in fuga Amalek. Il Signore poi annunciò a Mosè che avrebbe fatto sparire dalla memoria il nome di Amalek. Ma qui vediamo tornare ad un certo punto la figura di Ietro, il suocero di Mosè. Ietro, il sacerdote di Madiam e suocero di Mosè, fece visita al genero. Portò con sé la figlia che era moglie di Mosè, che era stata da questi rimandata al suocero, e i due figli di Mosè. Ietro e i suoi accompagnatori furono annunciati al genero, e Mosè andò incontro al suocero, lo baciò e gli raccontò tutta la sua storia. Ietro reagì esaltando e benedicendo il Signore e offrendo gli olocausti. Ed ecco che qui arriva un consiglio molto prezioso, giuridico, politico, che riguarda la gestione politica della comunità, un consiglio preziosissimo, dicevamo, di Ietro a Mosè. Ricordiamo infatti che Mosè in questo momento ha nelle sue mani anche la gestione delle controversie che seguono all'interno del popolo, ma le controversie proprio anche più minute, le beghe, le liti, quindi deve sobbarcarsi un lavoro enorme. Durante la permanenza presso Mosè, Ietro si rese conto che Mosè si stava sfinendo con tutte le udienze che concedeva quotidianamente a tutto il popolo per risolvere qualsiasi tipo di controversia e contesa immergesse in esso. Questo è il consiglio che Ietro diede quindi a Mosè, istituendo così l'ufficio della delega. Esodo 18, 19, 22 Tratta col popolo le cose che riguardano Dio, per poi riferirgli ciò che ti diranno, e per insegnare al popolo le osservanze, il modo di onorare Dio, la via per la quale devono camminare e le cose che devono fare. E leggi poi, di fra tutta la gente, degli uomini autorevoli, timorati di Dio, che siano giusti e abbiano in orrore l'avarizia. Ed a essi prendi dei capi di migliaia, di centinaia, di cinquantine e decine che giudichino il popolo in ogni tempo. Quel che vi sarà di più grave te lo riferiranno. Ed essi invece giudicheranno gli affari minori. Così, diviso con altri, il peso sarà più leggero per te. Ed ecco che Mosè decise di seguire questo importante, intelligentissimo e razionale, peraltro, consiglio politico.